Buonasera e bentrovati su Arezzo TV per il nostro consueto appuntamento con l'informazione. Apriamo il nostro telegiornale con una triste notizia che ci tocca profondamente da vicino. Si è spento oggi all'età di 75 anni il nostro Edoardo Carrai, giornalista in defesso della squadra di Arezzo TV fin dalla sua nascita. Ne traccia un ricordo commosso per tutti noi. Greta Settimelli, direttore di Arezzo TV. Siamo al Prato e siamo nella ruota panoramica. Siamo venuti a testimoniare l'ultimo giro. Un giornalista appassionato e un uomo garbato era questo, Edoardo Carrai scomparso dopo una malattia che purtroppo non gli ha lasciato scampo. Con lui se ne va un pezzo di storia del giornalismo aretino, giornalismo televisivo e un pezzo di storia indubbiamente della nostra emittente Arezzo TV. Emittente fondata nel 1988 dal mio babbo Nedo Settimelli assieme ad un gruppo di amici e colleghi tra cui proprio Edoardo Carrai. Tra le sue passioni più grandi il cinema e la cultura aveva seguito per noi anche il calcio e anche i tanti aspetti della cronaca ma indubbiamente appunto cinema e cultura erano le sue passioni più importanti. Per noi è stato un fidato collega ma anche un autore di trasmissioni televisive, molte quelle che appunto abbiamo creato insieme. Tra i suoi meriti più belli, più importanti, quello di aver portato in televisione per la prima volta circa vent'anni fa il Palio Marinaro dell'Argentario di Porto Santo Stefano, un primato che ovviamente condivideva con il mio babbo. Edoardo Carrai era però anche presidente di ADA, associazione diabetici aretini, una malattia appunto il diabete che lo aveva colpito in giovane età ma che era diventato per lui occasione proprio per fare del bene per gli altri. Aveva speso davvero tanto tempo e tante energie appunto per questa associazione. Che dire Edo, salutarti è quasi quasi impossibile, sarai come ho scritto sui nostri social insomma un collega insostituibile. Credo che sia proprio questo l'aggettivo che ti meriti. Noi diamo un grande abbraccio ovviamente ai tuoi familiari e siamo sicuri che da lassù controllerai con tanta attenzione quello che farà la tua televisione Arezzo TV. Ciao Edo. Questa è stata condivisione. Io credo che essere tutti qui insieme è come ricordarci che la vita è bella anche se si è diabetici. I funerali di Edoardo Carrai si terranno venerdì 21 giugno alle 10.30 alla Cattedrale di Arezzo. La salma si trova ora alla Camera Ardente della Croce Bianca. E nel pomeriggio è arrivata anche una nota dell'amministrazione comunale di Cortona che esprime cordoglio per la scomparsa di Edo. Edoardo Carrai. Stimato giornalista appassionato di spettacoli e cultura, Carrai era anche attivo nel mondo del volontariato. Con grande passione Carrai ha raccontato gli eventi e i personaggi del mondo della cultura che sono passati da Cortona, ricordano, dall'amministrazione. Sempre presente agli appuntamenti della stagione teatrale, alle più importanti iniziative promosse dal Comune e dalle realtà culturali del territorio. Ai familiari e colleghi di Arezzo TV le condoglianze dell'amministrazione comunale. E anche l'Arezzo Calcio Femminile partecipa con commozione al dolore della famiglia Carrai per la scomparsa di Edoardo che negli ultimi quattro anni è stato molto vicino alla società e alla squadra. Esperto e appassionato di arte, cinema e teatro di cui si occupava per lavoro da quattro anni a questa parte, scrivono dalla CF Arezzo. Il suo cuore batteva anche per noi che seguiva quotidianamente con interviste alle calciatrici, ai servizi sulla squadra e soprattutto non mancava mai ogni domenica allo stadio quando la CF Arezzo giocava in casa. Edoardo era il primo trifoso in tribuna, il primo in sala stampa, dove ogni domenica accoglieva chiunque si presentasse per le interviste. Sempre con il sorriso e con una buona parola per tutti. Ci mancherà molto. Alla famiglia Carrai vanno le condoglianze più sincere da parte del presidente Massimo Anselmi di tutta la CF Arezzo. Una giornata davvero triste per il giornalismo retino, scrive ancora la SD Arezzo Calcio. Ci ha lasciato Carrai voce, volto storico di Arezzo TV e presenza costante anche nella sala stampa dello stadio. Il suo carisma, il suo sorriso, la sua bontà e disponibilità non saranno dimenticati. E un altro lutto oggi ha colpito la comunità aretina e anche la nostra emittente Giovanni Melani. Per tutti nanni è scomparso all'età di 80 anni. Un giornalista, un imprenditore, assieme a Nedo Settimelli, hanno scritto pagine del giornalismo televisivo indelebili. Firma del Corriere dello Sport per tanti anni ha contribuito anche a lanciare Teletruria. Ma è con Arezzo TV che sperimenta la sua passione per il giornalismo televisivo con trasmissioni di successo e idee innovative. Alla nostra emittente è stato vicino anche negli anni più recenti con affetto e preziosi consigli. La Camera Ardente è allestita da oggi nella Cappella dell'Ospedale San Donato. Le esequie venerdì 21 giugno alle 15 alla Cattedrale di Arezzo. Al figlio Giorgio e alla sua famiglia le condoglianze più sincere da parte di tutta la redazione di Arezzo TV. E adesso cambiamo decisamente argomento. Sono stati appena presentati in anteprima gli spot della campagna Te Mi Piaci Poco, il progetto sostenuto dall'amministrazione comunale di Arezzo e dalla prefettura retina che ha avuto come obiettivo quello di sensibilizzare la popolazione sulle problematiche riguardanti le truffe agli anziani. Protagonista la Poti Pictures. Il servizio. Diciamo che ci siamo sperimentati un po' anche in accordo appunto con il comune su una situazione piuttosto leggera. Diciamo la chiave è sempre quella della Poti Pictures quindi piuttosto ironica, l'issacrante. Abbiamo giocato un po' con i nostri attori che si sono identificati un po' nel ruolo di cattivi per una volta e tentano in maniera anche autoironica di truffare appunto la vecchia signora. Oh mia, ora ti ha questo, vediamo un po'. Chi è? Arrivo, arrivo. Chi è? Signora, sono il numero della luce. Chi? Quello della luce. Ma che vuole? Eh, c'è un quarto, mi hanno chiamato, se mi fai entrare. Ma qual è il numero del mio contratto? Cosa dice? Il contratto. Ma ce l'avranno il numero di contratto? Sei? Dì che sei, sei una coglione, vedi. Vai, vai, vissero. Che coglione. Il concept è quello di spot molto, che cercano la viralità, quindi che girino su WhatsApp, sui social, in televisione e che arrivino, si spera, anche ai nipoti, no? Che possano far vedere ai nonni, perché poi l'obiettivo è quello di sensibilizzare appunto, l'obiettivo della campagna. Sì, una campagna informativa particolarmente efficace perché è affidata alla nonna, alla nonna Maria, che appunto riesce a intercettare questi tentativi di truffa. Sono truffe particolarmente odiose perché si rivolgono non soltanto alla popolazione anziana, ma a tutta la popolazione fragile e soprattutto perché sono particolarmente odiose perché fanno leva sui sentimenti. Mi è piaciuto tantissimo farlo, soprattutto farlo per le persone di una certa età, insomma, perché sono più a rischio di tutti, insomma. Io interpreto il ruolo della mente, tanto per essere chiaro. Sto impegnando, faccio come dice quell'altro, faccio il mio meglio, il mio... mi sento ramboso. E proprio in tema di truffe ad anziani vi raccontiamo quella appena sventata ad una signora novantenne residente a Castiglion Fiorentino. Una storia finita bene grazie alla rete di familiari e delle forze dell'ordine. Vi raccontiamo tutto in questo servizio. Per tutti la truffa del suo figlio ha avuto un incidente. Il copione si è ripetuto a Castiglion Fiorentino, ma solo grazie ad una rete efficiente tra familiari e forze dell'ordine, il racconto è quello di un tentato raggiro. Lo schema è assodato e reiterato. Protagonista, un'anziana signora ottantenne residente nel paese del Cassero, raggiunta da una telefonata di prima mattina. Dall'altra parte della cornetta, un uomo con accento partenopeo, classificatosi come maresciallo dei carabinieri, che racconta che suo figlio Guido era stato protagonista di un brutto incidente stradale. Con la sua auto aveva travolto una bambina che attualmente era ricoverata in gravissime condizioni all'ospedale. Proprio a seguito dell'incidente, il figlio era stato trattenuto in caserma e il suo cellulare sequestrato. La signora poteva alleviare la pena prevista per il figlio, solo consegnando ad un avvocato che avrebbe fatto visita alla signora nella sua abitazione da lì a poco una somma di 5.000 euro o preziosi che aveva a disposizione in casa. L'anziana, in preda al panico, decide così di telefonare all'altro figlio in quel momento al lavoro. È proprio lui a capire immediatamente il raggiro e ad avvisare il fratello Guido, che fortunatamente si trovava non lontano dall'abitazione della madre. Prima di raggiungerla, avvisa però il maresciallo della stazione di Castiglion Fiorentino, che si precipita insieme a lui a casa della madre. Lo stesso comandante attiva rinforzi per pattugliare la zona intorno all'abitazione, nella speranza di cogliere i malviventi sul fatto. Ma i truffatori desistono e non bussano alla porta. Scatta però l'immediata denuncia contro i gnoti per tentativo di furto aggravato per il fatto che è stato perpetrato ai danni di un'anziana e l'avvio delle indagini da parte dei militari. Stavolta la truffa non è andata a segno per il pronto intervento dei familiari e l'interessamento immediato dei carabinieri della stazione di Castiglion Fiorentino, comandante a Modio in testa, che vorrei ringraziare per la professionalità e la sensibilità dimostrata anche in questa occasione. Mi viene però da pensare chissà in quanti altri casi il crimine viene portato a termine e gli anziani, per paura, per timore, per vergogna, non arrivano nemmeno a denunciare l'accaduto. Si tratta di un crimine odioso, che lascia nell'anziano una sensazione di insicurezza, di violazione. Quest'estate, quindi, pensiamo sia alle vacanze, ma cerchiamo di avere un occhio di riguardo nei confronti delle persone sole, indifese, gli anziani che abbiamo in famiglia, ma anche quelli che sono i nostri vicini di casa, perché spesso non hanno nemmeno gli strumenti idonei per contrastare queste organizzazioni di malfattori senza scrupoli. Continuiamo a parlare di truffe, perché è arrivata una comunicazione da parte dell'ASL Toscana Sud-Est. Attenzione alle false comunicazioni a nome dell'ASL Toscana Sud-Est. A seguito di segnalazioni di tentativi di truffe arrivate tramite SMS e WhatsApp negli ultimi giorni, la direzione aziendale dell'ASL Toscana Sud-Est invita gli utenti alla massima cautela nel divulgare i propri dati sensibili e di rivolgersi anche al personale dell'ASL solo attraverso i canali ufficiali dell'azienda. In questo caso particolare, gli utenti sono stati raggiunti da un SMS o da un messaggio WhatsApp attribuito falsamente all'ASL, che li avverte che i servizi sociosanitari hanno una comunicazione urgente da fornirgli. Una volta richiamato il numero indicato nel messaggio che inizia con l'893, numerazione peraltro a pagamento in nessun modo riconducibile all'ASL, un fantomatico operatore che si presenta come ufficio sanitario dell'ASL avverte gli utenti che è in arrivo la nuova tessera sanitaria o in altri casi fa riferimento a servizi sanitari che in alcun modo sono riconducibili all'azienda. Di fatto la telefonata di pochi minuti serve soltanto per prosciugare il credito telefonico degli utenti. L'ASL Toscana invita quindi alla massima attenzione a non lasciarsi fuorviare da comunicazioni provenienti da mittenti non ufficiali e ricorda ai cittadini che le aziende del servizio sanitario regionale come appunto l'ASL Toscana Sud-Est non utilizzano mai numeri a pagamento ma esclusivamente numeri verdi gratuiti. Ed è stata presentata la graduatoria estiva dei progetti sostenuti dall'assessorato allo sport e alle politiche giovanili del comune di Arezzo con il consueto bando che ha messo in palio 30.000 euro di contributi per 15 progetti e ne metterà altrettanti 15.000 per 8 progetti autunnali. La graduatoria dell'estate 2024 vede una varietà di eventi e manifestazioni alcune già svolte nelle scorse settimane ed altre invece che avranno luogo in varie zone della città nei prossimi tre mesi. C'è spazio per la musica, per il teatro, per lo sport, la solidarietà ma anche la cultura e la storia. I primi tre classificati di questa edizione sono Malpighi Festival dell'associazione Arezzo che spacca, Warehouse Decibel Festival dell'associazione Music e Imbarchi Lab dell'associazione La Filostrocca. Restiamo ad Arezzo perché arriva una nuova segnalazione che riguarda il cimitero Aretino. Vediamo perché. Non c'è pace per il cimitero monumentale di Arezzo. Dopo aver ricevuto la segnalazione da parte di un cittadino del disservizio che perdura da mesi per il non funzionamento dell'ascensore arriva una nuova segnalazione alla nostra redazione. Questa volta ad essere messa sotto i riflettori è la situazione all'ingresso del cimitero. La strada, infatti, come è possibile vedere anche dalle nostre immagini, è costellata di buche. La situazione anche in questo caso perdura da tempo. Lo stesso cittadino aveva segnalato la scarsa manutenzione già a febbraio, ma nulla è stato fatto. Non mi capacito del perché non si possa provvedere, ha ricordato. Ipotizzo che i grossi conflitti di interesse che ci sono tra le varie autorità e denti con il rimbalzarsi della gestione del parcheggio portano a questo spregevole disservizio. Ma teniamo presente che il parcheggio è occupato anche da tanti turisti, soprattutto quando in città c'è la fiera antiquaria. E adesso parliamo di spettacoli. Sei giorni scanditi da 170 artisti, oltre 90 concerti, 200 ore di musica, con 100 pianoforti che sono dislocati in 40 location all'interno del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi e coinvolgono tutti e 10 i comuni della bellissima Valle del Casentino. Sono questi i numeri di Naturalmente Pianoforte che si terrà a luglio dal 16 al 21. Il servizio. Non conoscevo le virtù di un'area che unisce tra l'altro spiritualità, natura, la bellezza architettonica della storia e poi il cibo e soprattutto l'accoglienza. A coloro che ho chiamato e invitato al festival, a parte gli amici ma anche molti musicisti, io questo ho detto. Fidatevi perché se vado lì io da 9-10 anni lo faccio anche per lavoro, ma perché è una cosa di grande soddisfazione, di grande partecipazione, di condivisione e ne vale veramente la pena. E nessuno fino adesso si è lamentato. Cinque giorni di musica, parole, poesia, arte figurativa, yoga, visual, danza e trekking nel cuore del Parco delle Foreste Casentinesi. L'appuntamento con il festival Naturalmente Pianoforte è fissato da martedì 16 a domenica 21 luglio. Per la prima volta tocchiamo tutti i comuni del Casentino. È organizzato da Prato Veteri, APS, associazione che da oltre 10 anni ha pensato di valorizzare il proprio territorio attraverso la musica. Noi abbiamo cercato negli anni di testare una rete di rapporti con tutte quelle che sono anche le piccole realtà dei territori, quindi con le proloco, con anche dei piccoli borghi. E questo alla fine ci ha permesso di raggiungere questo risultato perché chiaramente troviamo dove andiamo il supporto da parte di tutti. Un connubio speciale che si è trasformato negli anni in un percorso artistico innovativo e sperimentale costruito attorno alle note del pianoforte, ma non più esclusivamente musicale. Quest'anno c'è un programma e un calendario più ricco che mai non solo di concerti ma anche di iniziative collaterali dalle mostre alle camminate, alle presentazioni dei libri, alle masterclass, all'arte. Durante il festival il Parco delle Foreste Casentinesi diventa palcoscenico naturale di una serie di eventi che intrecciano la musica ad una moltitudine di espressioni artistiche. Chi viene a Prato Vecchio durante il festival trova degli eventi per 24 ore, quindi c'è chi si vuole divertire, vuole andare a vedere una performance o un concerto la notte alle 3, trova qualcosa da fare. I concerti ce ne sono anche in questo caso tanti, una ventina, che hanno comunque la possibilità di svariare tra i generi. C'è una ampissima presenza femminile perché ci sono tante artiste, tante figure che potevano assolutamente rientrare nella nostra strategia artistica. e quindi ci sono anche i vari generi rappresentati perché abbiamo i cantautori, abbiamo una quota di pop, abbiamo una presenza di jazz naturalmente, anche qualcosa di sperimentale, diciamo un po' più ardito. e quindi ci sono sempre con il pianoforte protagonista diversi momenti, un po' per tutti i palati e abbiamo anche un segmento di figli d'arte perché ci sarà il concerto di Filippo Graziani e poi il concerto in duo, e questa è una novità perché non suonano mai insieme, di Paolo Iannacci insieme a Frida Bollani. Faranno un concerto che presentiamo un po' come esclusiva, un po' come fiore all'occhiello, sono amici e quindi io ho proposto loro questa ipotesi e l'hanno abbracciata volentieri. Sono curioso di ascoltarli perché tutti gli altri concerti più o meno li conosco. Li ho scelti anche in virtù di quanto mi era sembrato. Qua invece andiamo a scoprire le carte insieme quella sera. E in chiusura una notizia dedicata allo sport settimo posto per la chimera nuoto nella Coppa Toscana a squadre degli esordienti ha la più importante manifestazione rivolta agli atleti nati tra il 2011 e il 2013 ha registrato la presenza di 11 nuotatori e nuotatrici della società retina che sono scesi in vasca a Livorno e che a confronto con coitanei di tutta la regione sono riusciti a ben figurare con positive prestazioni cronometriche che sono valse un secondo posto due terzi posti e altri buoni piazzamenti. La somma dei diversi risultati ha permesso alla chimera nuoto di arrivare settima nella classifica generale tra 29 squadre toscane. E con questo è davvero tutto per il nostro telegiornale. Io vi ringrazio come sempre per l'attenzione e vi auguro una piacevole serata. Arrivederci. Al prossimo episodio Grazie.